Si è spaccato sulla fresca con la mollata. Non lo so. Non lo so, non lo so. No, mi stupisce il comportamento perché mi sembra strano, voglio dire. Come mai, anche se lui era vincitivo però, ricorda che... A cosa? Eh, due giorni prima del matrimonio... Perché non siamo amici, non siamo diventati amici prima, eh? Vabbè, diciamo che almeno lui in casa Milano entra. Perché la casa... ...